E leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca capitolo 9, sono dei versi che sicuramente conosciamo molto bene. D'altronde, fratelli e sorelle, quando leggiamo la parola di Dio non aspettiamoci novità, nel senso, come se dovessimo scoprire delle novità, qualcosa di originale. Noi aspettiamoci qualcosa di nuovo, aspettiamoci qualcosa di fresco, ma non aspettiamoci delle novità. Ciò che la scrittura dice, se abbiamo conosciuto il Signore, è certamente qualcosa che Dio già ci ha dato al cuore, ci ha detto qualche altra volta, ed Egli continua a ripetere queste cose che sono utili per l'anima nostra. Amen? Ma siamo certi questa sera che Dio ha qualcosa di nuovo da dire ai nostri cuori. Angelo secondo Luca, capitolo 9, leggiamo dal verso 57. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse, io ti seguirò dovunque andare. Gesù gli rispose, le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse, seguimi. Ed Egli rispose, Signore, permettimi di andare prima a seppellire di andare prima a seppellire mio padre, ed Egli disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse, ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volgo lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Vogliamo ringraziarti per la Tua parola, Signore. Fa che essa ancora potentemente opri i nostri cuori, perché desideriamo, Signore, essere illuminati, ristorati, fortificati, ma anche messi nella condizione di poter fare pieno a Tua volontà. Tra chiediamo questo nel nome di Gesù tuo figliuolo, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Alleluia. Dicevamo questa mattina che quando Dio parla con la Sua parola avviene un miracolo. Avviene un miracolo perché innanzitutto la parola di Dio è parola vivente, vero? E poi anche perché è parola attuale. E quando questa parola, questo miracolo però avviene a una condizione, quando questa parola incontra un cuore desideroso, un cuore che sinceramente è interessato alla volontà di Dio, questa parola compie il miracolo di mettere in sintonia la mente del credente con la mente di Dio. Al punto che anche le cose che Dio non dice direttamente, in modo esplicito, il credente le percepisce grazie anche alla illuminazione dell'ospito santo. E io prego questa sera che ancora avvenga questo miracolo. Amen. Probabilmente io personalmente non sarò esauriente in tutto, in ogni dettaglio, anche perché siete in tanti e ciascuno di noi presenta delle personali esigenze individuali diverse da ciascuno di noi, ma io credo che lo Spirito Santo compia questo miracolo. Prende questa parola, la distribuisce secondo il bisogno di ciascuno e quindi quello che io non dirò in modo esplicito per il bisogno individuale ci penserà lo Spirito Santo illuminando le nostre menti. Lo chiediamo? Questo è il miracolo della parola di Dio. E questa sera vogliamo proprio meditare su quanto sia importante che noi comprendiamo che tipo di cammino stiamo conducendo, come stiamo seguendo Gesù, perché non vogliamo a un certo punto trovarci nella confusione oppure nell'incertezza, ma essere rassicurati che stiamo camminando col Signore e stiamo camminando uniti a Lui e stiamo camminando come vuole Lui. Amen? Questo è importante e fondamentale. Infatti il testo che abbiamo appena letto inizia proprio con questa affermazione, mentre camminavano per la via. Questo ci dice che il cammino del credente deve essere, diciamo sì, espresso, deve essere effettuato da coloro che hanno interesse a camminare con Gesù. Qui troviamo della gente, delle persone che stanno camminando col Signore, stanno appunto seguendo il Signore e Gesù rivolge proprio a loro queste parole, Gesù proprio parla a loro, a loro spiega come bisogna seguirlo. E il cammino del credente appunto è caratterizzato da uomini e donne che sono interessate a camminare con Gesù. E io sono certo questa sera che tutti quanti noi qui presenti siamo interessati a camminare con Gesù. Non ci interessa camminare per la via così in modo senza sapere dove si va, cosa si fa, ma ci interessa camminare per la via, camminare appunto in questo mondo, condurre la nostra vita, ma che la possiamo condurre essendo sicuri che il Signore è con noi. Lo vogliamo fare delle sorelle. Questo possiamo dire è la prima caratteristica del cammino del credente, che il Signore cammini con noi. La seconda caratteristica che qui il testo ci presenta del cammino del credente è questa, che il cammino del credente non è fatto soltanto di buone intenzioni, di buoni propositi, di in qualche modo espressioni, anche se sono buone e positive, ma soltanto che rischiano di restare proclami se poi tutto questo non segue e poi un cammino pratico e effettivo. Infatti qui Gesù, vediamo, si rivolge a un uomo che esprime un buon desiderio. Io ti seguirò dovunque tu andrai. Gesù non gli dice, oh quanto sei bravo, hai fatto la scelta giusta, va bene così che sicuramente quest'uomo esprime una cosa positiva, la scelta che vuole fare, una scelta giusta. Ma Gesù appunto gli fa comprendere, sì, è bello quello che tu hai detto, però sei disposto a seguirmi a qualsiasi condizione? Sei disposto a seguirmi malgrado le difficoltà? Sei disposto a seguirmi malgrado le situazioni anche difficili? Sei disposto a seguirmi senza certezza umana neanche? Perché il cammino del credente non è fatto soltanto di proclami. Vi sono alcuni che hanno delle bellissime intenzioni, hanno dei buoni propositi o molte volte prendono degli impegni o in un certo momento anche così di emozione, di anche atmosfera particolare, un bel culto benedetto, loro hanno certi impegni, signore io voglio fare la tua volontà. Il cammino del credente non è fatto soltanto di buoni propositi, è fatto poi di azioni, di scelte concrete, di un cammino veramente che poi si manifesta nella quotidianità o anche in momenti difficili, anche in momenti particolari, quando tutto sembra negativo, quando non vi sono certezze umane o il credente continua a camminare col Signore. Non soltanto, ripeto, il cammino del credente è caratterizzato da questa condizione fondamentale, che il Signore sia con noi. Ma anche che il cammino del credente possa essere poi manifestato ogni giorno o anche nelle difficoltà, anche in momenti difficili. Non soltanto questo, il cammino del credente è anche caratterizzato da scelte e da distinzioni ben precise. A un altro Gesù disse, mentre quello di prima è lui che si propone e Gesù con quelle parole mette sia la prova il suo proporsi, vuole che quest'uomo verifichi, controlli, faccia una valutazione di quello che egli ha appena detto. Rifletta. Gesù stesso ha detto qualche altra volta nessuno costruisce una torre se poi non valuta se può completarla. Il cammino del credente è un cammino, ripeto, fatto non di propositi, di slogan, di momenti e motivi, ma di riflessione o di azioni concrete o veramente di qualcosa che poi si manifesta ogni giorno nella quotidianità, ma anche nelle difficoltà della vita. Ma il cammino del credente è anche caratterizzato dalla capacità di distinguere le cose, di fare una distinzione. Gesù dice a un uomo che era lì certamente con lui, tu seguimi. Costui risponde, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Io vorrei precisare, non è che il padre era morto e Gesù sta dicendo a quest'uomo di non assolvere i suoi doveri, diciamo sì, di figlio nel seppellire della sepoltura, perché se era morto, ascoltate, riflettiamo e usiamo anche, diciamo sì, quello che è la riflessione, se era morto non si trovava lì, quest'uomo. E se era morto sicuramente si sarebbe trovato laddove c'era il momento del bisogno, ma era un'espressione anche antica che significava, lascia prima assolvere ai miei doveri, diciamo, di figliuolo. Io ho la responsabilità della mia famiglia, di mio padre, che sicuramente forse era anziano e quindi sentiva la responsabilità comunque di dedicarsi a questi che erano le sue incombenze, diciamo sì, umane. E Gesù però gli dice, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio. È importante, fratelli e sorelle, che nel cammino del credente noi impariamo a distinguere le cose, le cose che appartengono al regno di Dio e le cose che riguardano, diciamo così, la vita. Certamente siamo chiamati anche a assolvere i nostri doveri umani e le nostre responsabilità umane, ma vogliamo comprendere, fratelli e sorelle, che la priorità, per quanto ci riguarda, deve essere sempre riservata a ciò che appartiene al regno di Dio. È importante che il credente non mischi mai le cose. Siamo chiamati, ripeto, ad assolvere a quelli che sono anche i nostri impegni umani, le nostre responsabilità terrene. Molte volte ho detto che se mettiamo su famiglia dobbiamo in qualche modo preoccuparci di quelli che sono i bisogni della famiglia. Se assumiamo delle responsabilità dobbiamo preoccuparci ad assolverle nel modo giusto. Però, fratelli e sorelle, vogliamo ricordarci che la nostra cittadinanza è nel cielo, che le cose a cui dobbiamo bramare sono le cose di lassù, che per quanto riguarda il credente, il credente mette a primo posto le cose spirituali, e cioè il bene della propria anima, il servizio al Signore. Vogliamo veramente distinguere ciò che appartiene a realtà terrena o umana, o a volte anche dobbiamo distinguere in quelle cose che Dio non può approvare, a volte anche possono essere cose legittime, ma che molte volte sono impedimento nel nostro cammino cristiano. Dice l'Apostolo Paolo ogni cosa mi è lecita, ma non tutto mi è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non tutto edifica. Ogni cosa è lecita, è quello che è lecito, parliamo di ciò che è lecito, di ciò che è legittimo a volte, ma non mi farò dominare da cosa alcuna. Vogliamo davvero chiedere aiuto al Signore che egli ci illumini sempre. Il cammino del credente è un cammino appunto condotto comprendendo, capendo, distinguendo le cose che sono secondo la volontà di Dio da quelle cose che non sono secondo la volontà del Signore. Le cose che contribuiscono per la nostra crescita ospituale, da quelle cose che forse potremmo anche farne a meno a volte. Dio ci aiuti, fratelli e sorelle. Il cammino del credente ha queste caratteristiche, non soltanto è caratterizzato dal fatto che il Signore è con noi. Ed è importante che egli sia con noi. Se egli non è con noi, non è il cammino del credente. Se egli non sta camminando con noi, o meglio, noi non stiamo camminando con lui, quello non è il cammino del credente. Vogliamo sempre accertarci che stiamo camminando col Signore, che stiamo in comunione con Lui. vogliamo veramente essere certi che il Signore è colui che ci porta avanti, che ci sostiene, che il Signore è colui che veramente sta conducendo la nostra vita. Vogliamo verificare, fratelli e sorelle, che stiamo camminando comprendendo, valutando le cose che sono secondo la volontà di Dio da quelle cose che certamente forse sono anche legittime, ma forse magari non rientrano nel piano di Dio. E allora è importante che noi veramente camminiamo avendo lo sguardo alle cose di Dio, alle cose spirituali, distinguendole, facendo a volte anche una selezione nel nostro cammino cristiano, perché noi desideriamo fare la volontà del Signore. Gesù disse, lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu seguimi, ma tu, c'è una priorità che ti riguarda, ma tu annuncia il regno di Dio. E questa è un'altra caratteristica del cammino del credente. Il cammino del credente è caratterizzato dal fatto che durante questo tragitto il credente è chiamato a rendere testimonianza. Durante il nostro cammino cristiano, fratelli e sorelle, qualsiasi cosa noi facciamo, ovunque non ci troviamo, qualsiasi situazione stiamo vivendo, noi siamo testimoni del regno di Dio. Il cammino del credente è un cammino di testimonianza, è un cammino in cui noi annunciamo il regno di Dio. È importante, è fondamentale questo. È importante che sia chiaro proprio nella nostra mente, nel nostro cuore, che siamo qui, mentre siamo in viaggio, noi siamo testimoni di Cristo Gesù. Mentre siamo in viaggio, noi stiamo annunciando il regno di Dio, stiamo proclamando il regno di Dio è come? Non soltanto con i proclami, non soltanto con le parole, ho detto prima che non consiste in proclami il cammino del credente, ma in azioni concrete, in scelte concrete, in fedeltà continua, quotidiana. Noi vogliamo testimoniare del regno di Dio con la nostra vita, con la nostra condotta, ma tu lascia i morti, quindi è importante che noi possiamo riconoscere ciò che è morto, ciò che non dà vita, ciò che non serve, ciò che non ci aiuta a crescere, andare avanti in via del Signore. Ma vogliamo invece interessarci tutto ciò che contribuisce alla nostra crescita spirituale, perché questo è importante per noi. Il cammino del credente è un cammino che è appunto fatto di queste valutazioni, di queste considerazioni, ed è un cammino in modo particolare che ha come obiettivo la testimonianza del regno di Dio. In ogni cosa che facciamo, ovunque noi siamo, noi siamo testimoni del regno del Signore. Alleluia. Questo è il cammino del credente. Non solo, il cammino del credente, qui appunto Gesù lo ribadisce a un altro che gli dice, ti seguirò, ma lasciami prima salutare quelle di casa mia. E Gesù, rivolgendosi a quest'uomo, gli fa comprendere anche questo, che il cammino del credente è un impegno che noi prendiamo col Signore. Amen? È un impegno. Nessuno mette la mano all'aratro. Mettere la mano all'aratro appunto significa assumersi l'impegno. Perché uno mette mano all'aratro? Mica per appoggiarsi, mica per farsi una fotografia. Uno mette la mano all'aratro perché appunto vuole fare qualcosa. E cosa vuole fare? Vuole preparare un campo, un lavoro, un impegno, un mettere diciamo così in gioco, i propri sforzi, il proprio intento, tutto il proprio essere per un obiettivo. E qual è l'obiettivo? Perché uno ara un campo? Mica per fare esercizio fisico e basta. Se io voglio smaltire un po' di chili, allora mi faccio un giro con l'aratro. No, se uno ara un campo perché in quell'impegno, in quello sforzo vuole poi vederci che cosa? Dei frutti, dei risultati. E quindi questo richiede che cosa? Concentrazione, richiede proprio dedizione, richiede proprio mettere mano all'aratro. È un impegno. E il cammino del credente è la chiamata a un impegno serio col Signore. Non soltanto il cammino del credente è quel cammino che noi stiamo svolgendo in compagnia del Signore. E vogliamo preoccuparci, interessarci. Perché no? Esaminare. Quando Paolo dice esaminate se siete ancora nella fede. Signore, ogni giorno che passa ogni giorno del mio cammino, voglio verificare se sto camminando con Te. Amén. E mentre cammino con Te, Signore, non voglio camminare soltanto facendo proclami. Amén. Voglio fare questo, voglio fare quest'altro, Signore, questo, quest'altro, ma voglio camminare con Te, essendo disposto a seguirti a qualunque costo, a esserti fedele nella quotidianità, anche in quei momenti in cui le cose non vanno bene. Lo vogliamo fare delle sorelle? Aiutemi, Signore, a seguirti comprendendo, capendo, valutando le cose che sono secondo la Tua volontà, le cose che tu vuoi, le cose che mi fanno del bene, o essendo anche pronto, disposto, riguardo a quelle altre cose che non mi aiutano. A volte vi possono anche essere cose legittime, che possono anche essere i nostri desideri. Questa mattina parlavamo anche di Davide, di Davide che ebbe in cuore di costruire il Tempio, ma Dio gli disse di no. E Davide non vide quel no come un limite, ma scoprì che in quel no Dio aveva in servo per lui qualcosa di meglio. Signore, dammi la grazia di camminare con Te e mentre cammino con Te, Signore, che io possa capire, distinguere le cose che mi aiutano a camminare con Te, le cose che contribuiscono alla mia crescita spirituale. Quello che è morto, Signore, quello che non mi aiuta, quello che mi appesantisce, quello che mi limita, Signore, fa che io possa separarlo, che io posso non avere più il pensiero. Lo vogliamo fare delle sorelle, perché altrimenti diventa un cammino con difficoltà, diventa un cammino incerto o un cammino che va avanti non in modo spedito, ma a volte così a strattoni, quasi come se tirassimo qualcosa di pesante, difficile, perché il Signore mi chiama a rinunce, rinunce anche legittime, ma come, ma come, Signore, lascia i morti, seppellirò i morti, ti ho chiesto, lascia che prima io seppellisca mio padre, lascia che prima io assolva un mio dovere, o io sono intenzionato a seguirti, io ti voglio seguire, ma ho quest'altra responsabilità, legittima, importante, opportuna. Ma Gesù ti dice, guarda, fai questa valutazione, capisci ciò che è buono, ciò che è prioritario, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu seguimi. Signore, aiutami a seguirti comprendendo, capendo ciò che contribuisce per l'avanzamento del tuo regno, innanzitutto nella mia vita, Signore. Lo vogliamo, fratelli e sorelle. Ci sono tante cose morte, amen, ma morte, eh? E non parlo di cose, diciamo così, trasgressive, e non parlo di cose, diciamo sì, negative, a volte cose anche lecite, eh? Però che non sono nella volontà di Dio. Ecco perché è importante che mentre camminiamo col Signore capire sempre quello che piace al Signore, eh? Quello che piace al Signore. Dio disse a Davide, no, tu il Tempio non lo costruirai tu, non lo farai tu. O la tua intenzione era buona, quello che tu volevi è una cosa buona, certamente, ma non lo farai tu il Tempio, eh? Signore, aiutami veramente ogni giorno a dipendere da te, a seguire, a darmi quella intelligenza di capire le cose che tu vuoi per la mia vita. Lo vogliamo fare delle sorelle? Io non voglio fare neanche un passo, eh? Portandomi dietro qualcosa di morto, avendo forse anche il pensiero a qualcosa che non mi aiuta ad andare avanti. Magari forse io mi lego a quella cosa. Vi sono alcuni credenti che rimangono legati a delle cose, eh? Non riescono a separarsene, non riescono, diciamo, sì, a lasciarle. Oh, perché ritengono che sono cose anche... perché no? Perché? Perché non posso. Però, signore, voglio imparare a dipendere da te. Voglio davvero capire ciò che è buono per il bene dell'anima mia. Lo vogliamo fare delle sorelle? Eh, signore, aiutami a capire che seguire te, camminare con te è un impegno, eh? Io metto mano all'aratro, metto mano a un lavoro, metto mano a un impegno, metto mano a una consacrazione, metto mano a un servizio, metto mano a una testimonianza, metto mano a qualcosa veramente di impegnativo e di serio. E non posso mettere mano a qualcosa di impegnativo e di serio con lo sguardo rivolto altrove. Sapete, anche il nostro corpo comunica. Qualcuno appunto parla del linguaggio del corpo. Molte volte noi parliamo più col nostro corpo che con le nostre parole. Mi è mai capitato incontrare qualcuno a cui voi state parlando e sembra che vi ascolti, ma in realtà ha la testa da un'altra parte. Mentre voi parlate, guarda di qua, guarda di là, eh? Capita, no? Forse pure noi abbiamo fatto qualche volta. Perché? Perché magari quello che stiamo ascoltando o che quella persona sta ascoltando di noi non è veramente interessante, non interessa. E qui Gesù dice, nessuno mette mano all'aratro. Cioè assume l'impegno di servire il Signore, ma ha l'interesse da un'altra parte. Ha il cuore da un'altra parte. Perché altrimenti non è adatto per il regno di Dio. Perché in questo impegno, il cammino del credente è caratterizzato dall'impegno col Signore. Noi mettiamo la mano all'aratro. E in questo impegno il Signore richiede tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. I nostri pensieri, i nostri sentimenti, ma anche il nostro corpo. Perché il nostro corpo, il nostro corpo sull'altare è il nostro culto spirituale. Gesù, ripeto, con queste parole spiegò a chi lo stava seguendo mentre camminavano per la via. Gesù appunto spiegò a chi lo stava seguendo che significava camminare con Lui. Signore, questa sera fammi comprendere sempre di più che significa camminare con Te. Innanzitutto, Signore, voglio essere sicuro che sto camminando con Te. Amen. E poi, Signore, ti prego, fa che mentre cammino con Te, io non abbia pensieri altrove o sentimenti altrove, ma che tutto il mio essere sia veramente concentrato ad ascoltare Te, a dipendere da Te, ad avere fiducia in Te. Fa che veramente io capisca quello che piace a Te, Signore. E' veramente il mio sguardo concentrato sulla Tua volontà, sulla Tua parola. Il mio impegno, Signore, tutto il mio essere possa davvero essere rivolto a camminare con Te e quindi a camminare come Tu vuoi che io cammini con Te, Signore. Perché, fratelli e sorelle, camminando col Signore, non soltanto non ci smariremo. Chi cammina col Signore e cammina col Signore con queste caratteristiche non si smarisce mai. Ci chiediamo? Non torna indietro e arriva alla meta. E noi vogliamo arrivare alla meta. A me, noi vogliamo arrivare al traguardo. Mentre camminiamo per la via. Alcuni, purtroppo, mentre camminano per la via, dimenticano di verificare se sono ancora con Gesù. Ricordate i genitori di Gesù? A un certo punto si accorgono che Gesù non è più con loro. si fermarono. Se ti sei accorto che non stai camminando più con Gesù, fermati questa sera. Rifletti, fermati. Non continuare, ma fermati. E forse torna indietro. E rassicurati che Gesù sia ancora con te. Vogliamo chiedere i nostri capi. Grazie. 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 Grazie a tutti